Le ultime partite le hanno fatte a tre, che è più a cinque, che è a tre però. Ho fatto sto cinque, tre, due, anche se hanno esterne abbastanza interessanti. Dipende, loro sono abbastanza aggressivi, a metà campo, lasciano pochi spazi, quindi poi il problema è di trovare quegli spazi che ci lasciano. Come parte di Sebastiani, condividi se questa squadra non conseguisse però se sarebbe una nata fondamentale? Vabbè, veramente all'inizio diceva diverso, però in questo momento è normale che la voglia di arrivare almeno a play-off c'è. Ci deve essere da parte sua, da parte mia, da parte della squadra. Come ho visto che la squadra ci crede, anche se non basta crederci, poi bisogna dimostrare, però ci vogliamo inserire. Penso che abbiamo fatto una buona squadra, come penso io, anche se continuo a dire che l'esperienza questa squadra ne ha poca, perché pochi giocatori hanno giocato tanti campionati e quelli che hanno giocato tanti campionati purtroppo non sono disponibili. E quindi i giovani, per me hanno qualità, lo dico dall'inizio, però devono capire campionato e devono capire dove si vuole arrivare. Quindi anche per lei sarebbe un fallimento, non centrale Piero? No, certamente io vorrei centrare Piero, poi se non ci si riesce ci saranno motivi. Su Pettinari, perché non segna da un po'? A parte che non lo osserviamo bene, secondo che lui pure non si fa trovare sempre nel posto giusto. Si sta lavorando, per me in allenamento ci riesce, purtroppo in partita non riusciamo a trovarlo perché non è in posizione giusta.